Ma il problema non sono stato i giovani, non so il problema è stato... Ma le difficoltà? Ma le difficoltà, noi penso che a livello interno abbiamo avuto pochissime, ma purtroppo ci sono stato un mare di problemi che magari qualcuno lo sa, c'è stato un peccato che il presidente Raffaele Trapani e il fratello hanno avuto dei problemi e abbiamo affrontato questi problemi che loro ci hanno grossi poche noi, però l'abbiamo sentito un po', sicuramente al girone di andata eravamo una squadra, al girone di ritorno eravamo un'altra, a livello mentale purtroppo abbiamo avuto diversi problemi e ci siamo creati delle difficoltà, però ripeto, con tutte queste problematiche ai ragazzi bisogna fare una statua perché ci siamo salvati con una giornata di anticipo, con tutti i problemi, giocando male, facendo tante cose, però alla fine siamo arrivati all'obiettivo. Dico una partita un po' delicata sotto certi aspetti perché immedesimarsi nella possibilità di capire la squadra avversaria che deve salvarsi, quindi sapendo poi già dal martedì che avrei fatto giocare tutta la rosa a disposizione, tra l'altro hanno esordito anche due ragazzi del 98 e del 99, quindi la gara è stata portata per come l'avevamo preparata, sapendo che di fronte avevamo una squadra di tutto rispetto e che pensava come prima cosa la salvezza immediata, quindi faccio i complimenti ai miei ragazzi per quello che hanno espresso in mezzo al campo. È stata una partita, abbiamo avuto le nostre piccole occasioni, le potevamo sfruttare, potevamo fare anche qualcosa in più, però giustamente noi avevamo un obiettivo da un altro, loro l'hanno raggiunto la settimana scorsa l'obiettivo, quindi diciamo che è stato giusto il risultato.